Quindi noi abbiamo chiesto di far chiarezza, oggi pomeriggio abbiamo un incontro con la Fornero, speriamo che non si pianga addosso e che dia una risposta chiara a questo problema. Presidente della Camera del Senato ci hanno assicurato che la strada per finanziare, perché abbiamo poco tempo, fino a maggio, perché a maggio finiscono i soldi, di far transitare per esempio il provvedimento attraverso il documento finanziario che nelle prossime giornate dovrà essere affrontato dal Parlamento. Quindi ci aspettiamo questo e su questo noi non vogliamo esattamente come facciamo per i lavoratori esodati che non dimentichiamo, lo sappiamo bene. Cassi integrati in deroga ed esodati sono il frutto del disimpegno e della insensibilità della classe dirigente italiana. Sia i cassi integrati che gli esodati, lo ripeto, non li abbandoniamo finché il problema non sarà risolto, fino in fondo, nonostante i successi seppur parziali che abbiamo ottenuto.